Eva dava lupa dava, ava dava le uova d'eva, ora Eva è priva d'uva mentre ava vuole l'uva, o è priva d'uva, è priva d'uva, bravo, attenzione, il mondo è fatto a scale, allora, per favore, il mondo è fatto a scale, chi scende chi sale, chi le scende troppo in fretta si sciuva la scarpetta, la scarpa e il laccio è sciolto, con lo scialle scialda molto, le scialle non è sciarpa, la sciarpa non è scarpa, il furbo non è sciocco, il laccio è sciolto cosa, il fiocco lo sciocco, ricoperatemi, bravo, bravo, ma ce l'ho fatta? Puoi ripetere lo spelling? Ma di cosa? Della domanda? Il mondo è fatto a scale, chi scende chi sale, chi le scende troppo in fretta si sciupa la scarpetta, la scarpa e il laccio sciolto, colle, sciallo scalda molto, lo scialle non è sciarpa, la sciarpa non è scarpa, il furbo non è sciocco, tira il laccio è sciolto, il fiocco lo sciocco, il fiocco lo vede che mi ha capito?